Il valore dell'innovazione oggi nel mercato della sicurezza ha avuto un riscontro diretto, quindi abbiamo toccato con mano come i distributori e gli installatori della sicurezza hanno necessità di cambiamento e soprattutto di innovazione, non solo tecnologica ma anche di sistema. La filiera che lega il mercato della sicurezza non è solo ovviamente la filiera tecnologica ma è la filiera anche dell'approccio commerciale al mercato con una sottolineatura di quelli che sono i valori che per certi versi abbiamo perso con il tempo, che significano per esempio dei valori etici rispetto alla relazione commerciale. So di toccare un tasto abbastanza difficile però l'atteggiamento di un'azienda che produce, che mette sul mercato dei prodotti ad alto valore aggiunto dal punto di vista tecnologico devono chiaramente rispondere ad una serietà, ad una professionalità nella messa in commercio per rispettare dei canoni della filiera. Come produttori ci rendiamo conto che non è sufficiente creare e investire in tecnologia ma abbiamo necessità di modificare alcuni paradigmi classici di questo mercato che rientrano nei valori intanto commerciali, come abbiamo avuto modo di spiegare, di etica, di correttezza e soprattutto di cooperazione. Nel momento in cui non si collabora e quindi non abbiamo una visione chiara del mercato il network che cerchiamo di costruire è un network con poco significato. Noi applichiamo una strategia chirurgica sul mercato, andiamo a scegliere i nostri partner non tanto in funzione della loro potenzialità commerciale quanto della loro affinità con un progetto. All'interno del nostro stand abbiamo registrato delle reazioni molto entusiastiche rispetto a una tecnologia nuova che abbiamo presentato che si traduce in XPECT, una nuova tecnologia volumetrica a protezione degli esterni, quindi del perimetro esterno degli edifici e grande attenzione alla tecnologia in primis ma anche a come un'azienda come XSEC sia riuscita a proporre e a introdurre investendo 3-4 anni di sviluppo di questa tecnologia creando una vera e propria rivoluzione. Grazie Grazie Grazie